Daniele Rosania, ci concentriamo sugli episodi, il gol di Ceravolo e poi le proteste ternane per un presunto tuo fallo proprio nei confronti dell'attaccante. Come viste il primo episodio e come il secondo? Il primo episodio devo dire che avevo paura di poter fare un rigore. Lui è stato molto bravo, si è spostato palla verso il centro, purtroppo ha preso anche il controtempo Nicola, ha preso il palla d'entrata. Ecco, tanti episodi che hanno fatto alla fine un'occasione negativa per noi. Se invece nel secondo caso, secondo me, poi dovrò rivedere, però io ho preso sia la palla che il piede, poi parleranno le immagini. Comunque io ne sono convinto. Ora andiamo a Cesena, ci andiamo a prendersi tre punti, speriamo e niente. I punti valgono doppio, come accogli questo pareggio? Comunque più due rispetto alla zona play-out, Regina e Ascoli hanno perso entrambi. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, abbiamo preso appunto un punto su Ascoli e Regina, andiamo a Cesena per forza con la voglia di vincere. Senti, nel secondo tempo la squadra è sembrata meno brillante, aver perso sicuramente smalto a livello atletico o mentale. Come la vedi? Quando è così, tutti alla fine ci siamo un po', abbiamo calato sia fisicamente che mentalmente. Non so cosa possa essere successo, comunque sia è stata una nostra reazione, non dobbiamo far sì che accada a Cesena. La squadra non saliva più? No, dovevamo iniziare da noi difensori a far salire la squadra, non so, però andiamo avanti a testa alta e ce l'andiamo a giocare.